Carlo Castellani, l'opposto che è entrato in campo dalla panchina e ha dato il suo contributo. Allora Carlo, una sconfitta però per 3-0 nel derby con Bolle Milano, come mai secondo te è arrivata? Come mai? È arrivata dunque durante settimana, penso che possiamo essere ci allenati abbastanza bene. Poi è arrivato, diciamo da poco, il nuovo allenatore, abbiamo fatto due partite con lui. Questa qui è contro Isernia, contro Isernia abbiamo preso quei tre punti. Quindi oggi si sperava di prendere qualche punticino in più, di smuovere almeno la classifica per il morale, per la squadra, per tutti quanti. Noi ci siete riusciti per questo 3-0, però tu hai fatto il tuo ingresso in campo al posto di Cazzamiga. Come hai visto la tua partita e come ti senti? Allora, io, diciamo per me, diciamo che, visto che è una delle prime volte che gioco in Serie A, posso essere anche contento. Soltanto per la squadra preferivo vincere, preferivo prendere qualche punto in più. Adesso però si deve già guardare avanti alla prossima partita, segnale di miglioramento che la vittoria di mercoledì ci sono stati, dove deve migliorare di più secondo te la squadra? Beh, dunque, diciamo, ti parlo solo, più di squadra ti parlo, non ti parlo né di tecniche, di muro, non ti parlo di niente. Ti parlo solo, che bisogna, beh, secondo me bisogna fare più spirito di squadra, forse, per lì.